Buongiorno coach, dopo la prima vittoria con Cremona arriva anche subito la prima sfida con una big del campionato. Come ci arriva la squadra? Sì, abbiamo subito una partita molto importante, ma sono tutte importanti e difficili, lo sappiamo. È un peccato non poterla giocare in casa nostra, ma siamo convinti che il nostro pubblico ci seguirà numeroso e farà sentire il suo calore come sempre. La squadra in settimana ha lavorato molto bene, i ragazzi sono concentrati, fisicamente stiamo bene. È chiaro che è un momento ancora dove il processo continua dal punto di vista sia fisico che tecnico, però abbiamo cominciato ad avere meccanismi un pochettino più ugliati. Non abbiamo delle grandissime aspettative da questo punto di vista, però abbiamo cercato piano piano in questi giorni di costruirci delle piccole certezze alle quali ci attaccheremo durante questa partita che sicuramente ci proporrà delle difficoltà perché andiamo ad affrontare una squadra quadrata, molto esperta, costruita per provare come noi ad arrivare fino in fondo. Buongiorno coach, è contento di come la squadra sta assimilando le sue idee, i suoi schemi e tra quanto vedremo la Cantù di Cagnardi? Sono molto contento di quello che i ragazzi stanno facendo in campo, il loro sforzo sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico è assoluto e totale. Sembra banale dirlo ma non è assolutamente scontato, ma non per una questione di volontà, perché tutti i giocatori hanno la volontà di fare bene, ma perché ci sono delle difficoltà oggettive che loro stanno provando a superare. Per concludere, non c'è un tempo, ma non dobbiamo neanche avere e personalmente non ho l'ansia da questo punto di vista. Abbiamo comunque una squadra che ha delle qualità individuali, sia tecniche che fisiche, e i ragazzi sapranno sicuramente, come hanno già fatto a Cremona, superire a quella che è una mancanza di eventuale fluidità o meccanismi. Buongiorno coach, io volevo focalizzarmi un po' sugli avversari, arrivano da uno scivolone in casa, quindi potrebbe essere che abbiano il dente avvelenato per questa partita, vogliono rialzarsi subito. Se ha preso in considerazione questa cosa, cosa si aspetta da Treviglio, insomma, un po' una disanima anche sui avversari? Ma certo, quando una squadra perde una partita in casa, tende sempre a avere una reazione, però io non lo definirei uno scivolone. Sicuramente da parte di Treviglio, giocare la prima in casa, davanti ad un ottimo pubblico, come hanno avuto, e perdere non è una cosa positiva. Però io torno a quello che ho provato a spiegare e a dire nei giorni precedenti. Questo è un campionato difficile, se pensiamo che Milano abbia qualcosa in meno di Treviglio, abbiamo capito poco di quello che ci aspetta da qui in avanti. Milano è una squadra profonda, fisica, ben allenata, con la stessa guida tecnica da sette anni, con un seguito di due o tre giocatori che sono un po' il nucleo che va avanti da tempo, addirittura un paio dalla Serie B, con degli americani di talento. Milano ha fatto una partita sopra le righe dal punto di vista realizzativo, ma Treviglio sotto di ventia ha avuto la forza, la capacità fisica, tecnica, mentale, e tattica per la bravura del suo allenatore, di recuperare, di giocarsela a un supplementare. Senza un giocatore come Ciavella, fondamentale per la difesa, senza un giocatore come Barbante, un lunghissimo, con caratteristiche da esterno, ottimo tiratore. Starei un attimo attento a timbrare delle squadre, a ritenere alcune molto più forti di altre. Questo vale anche per noi, è un concetto sul quale sto spingendo, un concetto nel quale ancora non ci siamo entrati definitivamente. Buongiorno coach, volevo chiederle com'è la situazione in squadra, se c'è qualche indisponibile per la partita contro Treviglio. Noi ragazzi stanno tutti bene, come ho detto prima è un momento della stagione dove la perfetta forma non c'è e non potrebbe esserci, non ci deve essere, perché vorrebbe dire che comunque non si è calibrato bene il lavoro estivo, però non abbiamo problemi di sorta, tutti i ragazzi sono allenati molto bene, c'è stata solo una semplice gestione durante la settimana dei carichi e quindi pensiamo di poter fare dal punto di vista fisico la nostra migliore partita in questo momento. Buongiorno coach, Packer e Guariglia, numero 4 e numero 5 di Treviglio, sono loro i problemi più grossi se vogliamo per una squadra che non ha ancora un centro fisico grosso per contrastare, anche se il nostro americano, se il Salomone è in buona condizione potrebbe creare dei problemi. Può essere una parte importante dal punto di vista tattico, però a me viene da pensare che giochiamo contro Vitali, che è un maestro nel gioco del pick and roll, a prescindere dalle soluzioni tattiche che può incontrare, mi viene da pensare che giochiamo contro Giuri, che è un giocatore che se si accende può fare qualunque tipo di partita, ma tanto per fare due esempi, mi viene in mente che Miaschi sta giocando davvero il leader offensivo di questa squadra, fornendo prestazioni sopra i 25 punti e con grande continuità e con grande costanza realizzativa a livello di percentuali, quindi è chiaro che i lunghi vanno un pochettino sempre a fare la tara del gioco tattico della squadra, però è veramente una squadra che ha tante armi e fossilizzarci, concentrarci solamente su alcuni giocatori potrebbe essere un errore, seppure condivido quello che dici, nel senso che sono due giocatori sicuramente forti, Packer ha già assaggiato anche la 1, ha vinto il campionato l'anno scorso, è un giocatore atletico che è a tiro, che può anche giocare in post basso, Guariglia lo conosciamo, è un giocatore molto tecnico, però è una squadra completa, che ritengo personalmente completa e ci sono tanti giocatori, non abbiamo neanche nominato Harris il loro americano, che nel secondo tempo contro Milano ha fatto la differenza con un secondo tempo veramente importante a livello realizzativo, quindi sono tanti giocatori che dobbiamo attenzionare. Buongiorno coach, ritorno un po' su un concetto, ma abbiamo parlato anche in trasmissione, magari lo ripetiamo un po' per tutti, queste sei di cinque, se non ricordo male, vittorie in trasferta, è un campionato molto particolare quest'anno, una sola squadra che vince in casa, Torino, non è tempo di bilanci chiaramente, però è un po' un commento a questa particolare situazione. Sì, è la prova e la riprova che ogni partita è complicata, ma poi si possono dire tante banalità senza incorrere in errori comunicativi, la verità è che ci sono tante retrocessioni, è stata tolta la regola degli under, quindi le squadre anche quelle che voi chiamate di seconda fascia per esigenze giornalistiche, sono squadre che non hanno più tre bambini a chiudere un roster, ma hanno giocatori veri, quindi la differente profondità di tutte le squadre fa sì che comunque la qualità si sia alzata notevolmente, o si fa una partita solida, costante, oppure si rischia contro tutti, che si giochi in casa o che si giochi fuori casa, con questo non significa che noi possiamo avere paura di perdere o paura di vincere ancora peggio, però bisogna essere realisti in una maniera più assoluta. Sempre in trasmissione hai detto che bisogna guardare più a noi stessi, inteso che a Pallacanesto Cantù, rispetto agli avversari, sempre di quell'idea. Ma certo, un po' per il momento che stiamo vivendo, cioè di costruzione, ma questo vale per tutte le squadre, non è un alibi per noi. Adesso basta, il recente passato è chiuso, noi siamo proiettati verso un campionato, ci sentiamo già pronti per affrontarlo, è chiaro che abbiamo tantissimo lavoro davanti, però penso anche che un po' il mio credo, un pochettino, deve essere anche la forza di squadre che hanno ambizione di pensare molto a se stessi, perché il costruire a casa tua qualcosa di solido ti permette poi di affrontare tutti, non dico con serenità, ma anche con una certa sicurezza. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di tatticismi, di preparazione alle partite, ma quello fa parte del nostro lavoro. Volevo, a proposito di guardare prima Cantù che gli altri, fare un focus su uno dei protagonisti dell'ultima partita, volevo capire un po' come vede Bucarelli, appunto dopo i 29 punti, se è in forma, se lo vede bene, ma cosa può dare, cosa chiede a Bucarelli in questa stagione, cosa si aspetta da lui? Bucarelli è un giocatore fortemente voluto da tutti noi, perché ha dimostrato lo scorso anno, ma anche gli anni precedenti, di essere un giocatore totale, in che senso? C'è un giocatore capace di fare tante cose, e proprio in virtù di quello che ho appena detto, noi non chiediamo al ragazzo di essere sempre così performante, chiaramente benvengano le prestazioni del genere da parte dei nostri giocatori, aiutano a dare fiducia alla squadra, soprattutto in un momento come questo, però gli chiediamo di essere continuo dal punto di vista mentale, di essere inserito nel gruppo, lui è una persona molto importante per il nostro gruppo dal punto di vista emotivo, la scorsa partita, ma lui stesso ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di dirlo a tutti e al sottoscritto, la scorsa partita ha fatto una partita offensivamente sotto gli occhi di tutti, potrebbe essere che nella prossima partita debba marcare il giocatore più acceso degli avversari, sporcarsi le mani, buttarsi a terra, finire con due punti e poi magari semplicemente farlo per vincere insieme ai compagni.